Io credo che con i dazzi non si vada a nessuna parte, credo proprio che non sia quella la strada, penso che l'Europa ha comunque un problema suo specifico, oggi l'Europa è un'entità geografica e di fronte agli Stati Uniti, di fronte alla Cina, di fronte al resto del mondo in realtà non esiste un'Europa che ha una politica fiscale, che ha una politica industriale, tu hai tanti paesi che continuano ad andare per i fatti loro e la crisi dell'Europa nasce e dell'Italia nasce proprio da questa assenza.